Nessuno sapeva che c'era un pozzo aperto, che poi si è sbriciolato anche il cemento, insomma, per due bambini di tenere età, 6-7 anni, poteva cascare qualsiasi bambino che c'è in questo abitato. Sono precipitati per oltre tre metri all'interno di quel pozzo, un pomeriggio di paura che fortunatamente si è concluso con un lieto fine, è successo a Monte San Savino, Valdichiana, a Retina. Due bimbi di 6 e 7 anni stavano infatti giocando con la palla in uno spiazzo di Via Lioni quando sono caduti nel pozzo per la raccolta dell'acqua piovana. I due stavano correndo quando sono passati sopra la copertura in cemento che però non ha retto il peso ed è franata sotto i loro piedi. I bimbi sono stati soccorsi dalla sorella maggiore di uno dei due, una ragazzina di 13 anni che fortunatamente ha assistito alla scena e li ha salvati. Tirandoli fuori i bambini sono stati portati all'ospedale San Donato di Arezzo, dopo 24 ore di osservazione sono stati rimandati a casa. Hanno riportato solo qualche escoriazione ferita ma senza dubbio hanno rischiato moltissimo. Il comune di Monte San Savino ha immediatamente inviato degli operai per mettere in sicurezza il pozzo con una copertura provvisoria. Attualmente è in fase di verifica la proprietà del pozzetto stesso, abbiamo messo in piedi anche un controllo di tutti i pozzetti sia nostri e è stato sollecitato anche a Nuove Acque di fare un controllo simile dei loro pozzetti per garantire che siano in uno stato non come questo.